Se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, l'amministrazione di Fano non avrebbe mai tirato fuori questa questione, l'avrebbe insabbiata e i cittadini sarebbero sempre stati all'oscuro di tutto. E' soltanto con un'interrogazione di tre mesi fa che i cittadini sono venuti a conoscenza che qualcosa non andava nell'ambito sociale nella zona di Fano. E ci sono venuti tre mesi a questa amministrazione per indicare qualche minima responsabilità. Se l'amministrazione oggi viene a dire a noi e ai cittadini che loro hanno fatto tutto il possibile, mi pare che sia evidente che se ci vogliono tre mesi per trovare soltanto una persona, un caprio ispiratorio da allontanare dal servizio, significa che per tre mesi si è temporeggiato, si è atteso che qualcosa si mettesse a posto da solo. Ecco, ora che cosa si delinea, che cosa si prospetta per le persone che hanno bisogno di questi fondi? E' evidente che questa è una risposta che deve dare la politica e deve dare l'amministrazione. Ed è per questo che la politica ha una grossa responsabilità. Queste responsabilità politiche vanno trovate nella nomina della stessa dottoressa Battistini, che è venuta poco più di un anno fa. Ricordiamo che la dottoressa ricopre questo ruolo di dirigente d'ambito dal 2008. Quindi c'è da chiedersi se queste irregolarità che sono state accertate a partire dalla fine del 2013 possano risalire anche a tempi precedenti. Nel senso, la dottoressa Battistini ha sempre operato in questo modo, quindi se lo ha fatto da quanti anni e soprattutto l'ha fatta in solitario, c'è qualcuno che sapeva, è la punta di un iceberg o ha operato da sola? Comunque voi ribadite la paternità di questa iniziativa che è sfociata poi nelle dimissioni. Sì, nel senso che la città fino a poco tempo fa non sapeva neanche che cosa fosse un ambito territoriale. Se ne è cominciato a parlare con le nostre prime interrogazioni che sono del giugno scorso. Tra l'altro ci preme sottolineare che noi stessi abbiamo fatto un esposto a firma mia e dei miei colleghi del Movimento 5 Stelle. Gli esposti partiti dal Comune sono tutti a firma dei dirigenti, non del sindaco e dell'assessore. Quindi le parti politiche non si sono messe in gioco così come l'abbiamo fatto noi per fare chiarezza, ma è stato fatto internamente perché la legge lo impone, la legge anticorruzione, quindi non si poteva fare altrimenti.